Volete un nuovo sorriso? Offriamo due soluzioni. Arco da 12 denti in resina. Arco da 12 denti in zirconio. Decidete voi quando acquistare il biglietto aereo. L'autista vi aspetterà in aeroporto quando atterrerete. In clinica i medici inseriranno gli impianti e dentro la fine del giorno successivo i denti provvisori saranno pronti. Dopo sette mesi la vostra bocca verrà scansionata e realizzeremo un modello 3D dei denti futuri. In due giorni i denti permanenti verranno fissati sugli impianti. Potete persino richiedere un rimborso parziale tramite la vostra assicurazione sanitaria nel paese in cui vivete. Clinica internazionale M3Dent